scusate ragazzi ho avuto un improvviso attacco di vomito vedendo il nuovo banner dei brasi reali via col video del banner e poi descrizione dettagliata di questi nuovi fenomeni estrazione nazionale di calcio del brasile guerriere del mondo in battaglia con ogni estrazione da 10 fai un salto di qualità per vedere un salto di qualità nel degrado vedendo questi nuovi giocatori ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video di captain su base al dream team allora ragazzi qua tocca dire assolutamente una cosa che club games abbia deciso di improntare il gioco verso il rendere più forti i giapponesi rispetto ai giocatori stranieri questo lo abbiamo capito da questo anniversario ma arrivare a fare un banner così schifoso non me lo sarei mai aspettato nemmeno io con questi giocatori che ragazzi assolutamente non pullate nemmeno 30 dream ball su questo banner e che si facciano a fottere le abilità di squadra che forse sono l'unica cosa buona di questo banner ma veramente i giocatori non ne valgono assolutamente la pena e diamo gli spazio togliamo la camera andiamo a vederle una a una prima qui e poi nel database come sempre anche se onestamente potremmo anche farne a mero visto come sono comunque giocatori sudamericani di tipo agilità tutti i parametri più 17% l'abilità di squadra di santana ci viene per la prima volta di partire da qui perché per cercare di capire di percepire qualcosa di buono bisogna guardare l'abilità di squadra in questo banner ve l'ho detto abilità passiva invece del legame nazionale sudamerica massimo 15% parametri tiro celeste del tornado di frecce la tecnica di grado S è principale con 4,75 di consumo stamina e 4,75 di impeto massimo poi dribbling sudamericano ad alta velocità e il dribbling di grado A che non è una tecnica nuova già c'era e spalla caricata anche questa già c'era come tecnica andiamo avanti Salinas se ci sono 8 o più giocatori di tipo resistenza e sudamericani tutti i parametri giocatori della squadra 15% super solidarietà di squadra dunque colpo vigoroso è la passiva per quanto riguarda questo Salinas con un massimo ai parametri del 30% chiaramente è maggiore della standard la conosciamo bene questa abilità passiva super riflessi del genio la tecnica principale di grado S è una parata 3,75 di consumo stamina e 4,75 di impeto massimo e salvataggio perfetto è il pugno di grado A come tecnica secondaria casa grande verde se ci sono 8 o più giocatori sudamericani super solidarietà di tipo tecnico sudamericana per casa grande maestro dei pronostici parametri più 50% allora le tecniche principali sono intercettazione possente di grado S contrasto ad alta potenza di grado A e nuovo Brasil Soccer sono invece le tecniche secondarie di grado A chiaramente un difensore senza blocco giusto si può riperire chiaramente il blocco possente per casa grande per cari detentivo però vabbè tanto andiamo avanti mi viene da ridere ragazzi purtroppo questo è un video un po' così abbiamo visto ora l'intro un po' scherzosa ma ci sta ci sta ci sta straordinaria evoluzione del calcio sudamericano per Dugo arriva Dugo più 12% parametri dei giocatori sudamericani legame nazionale sudamerica al passivo per lui massimo 10% dei parametri però il bonus coppia dei centrocampisti della difesa invincibile è la tecnica di grado S che ha in comune con Marzio infatti anche Marzio ce l'ha ve lo vedete e anche hanno in comune la straordinaria evoluzione del calcio sudamericano poi blocco possente intercettazione forzata e contrasto possente sono le altre tecniche mentre più o meno quasi uguale Marzio ha blocco in scivolata intercettazione repentina e contrasto travolgente forse questo più facile da farmare alla 80 perché lo davano in un evento passato sicuramente ve ne sarete messo una copia da parte insomma ma io lo ripeto ragazzi non andate a pullare assolutamente per questi giocatori poi c'è vediamo vabbè naturezza 001 ok Santana questi sono i vecchi questi sono i vecchi Alberto per correttezza li faccio vedere Salinas Rivaul Leo oh beh Leo se nel caso mai vi esce Leo oh Pepe comunque e Carlo Santana ok però i giocatori principali erano quelli fino chiaramente a Marzio fino a Marzio e dunque fino a qua sono i giocatori nuovi che andremo a vedere anche all'interno del database allora ragazzi quindi non vi spaventerete vero se vedrete questo Santana con queste statistiche Carlo Santana ve l'ho detto già all'inizio del video che banner è questo l'arco torato del Brasile allora 981 in stamina poi dribbling 6206 tiro 6.864 passaggio 6.320 difesa contrasto 5.160 blocco 3.503 intercetto 5.062 velocità 5.374 potenza 6.378 maestria 5.477 io ragazzi non so cosa vi posso dire magari immaginandolo in una full Sud America prende perché per correttezza dobbiamo guardare fino in fondo al 15% non so se non è 7 vabbè resta comunque un giocatore di un livello diciamo mediocre è un peccato perché si sono buttati via Carlo Santana potevano fare un qualcosa di diverso per qualche riguardo gli stranieri finora in questo anniversario non è stato fatto niente non è stato fatto niente se si escludono i brasiliani cioè il Dream Collection dove ci furono Rival e Galvan quelli si sono giocatori buoni però nel Dream Collection l'abbiamo visto nel video di G100 Trimble cosa dà il Dream Collection no ragazzi vabbè poi hanno fatto Ino e Victorino però impullabili in un banner nel quale non ti puoi avventurare non ti puoi avventurare perché il rate è pessimo e adesso arrivano questi vabbè comunque questo nel riassunto è l'arco dorato del Brasile Carlo Santana e poi seguendo l'ordine di come ce li presentava il banner allora Salinas eccolo qua andiamo a vedere Salinas ragazzi andiamo a vedere Salinas sono curioso un po' di vedere come sono distribuite le statistiche allora pugno 7.933 parata 8.322 velocità 5.048 potenze 5.784 maestira 7.122 9.14 di stamina per un portiere caccia ragazzi per un portiere che deve parare 9.14 di stamina 3.65 3.65 già fa 3.36 6.6 7 e passa 7.20 7.30 più o meno oddio chiaramente provenezza Brasile e Mondiale Giovanili la tecnica può arrivare a 4.75 di potenza di impeto massimo voglio dire posso sfidare chiunque al puntare a schillare bene l'ultimo baluardo del gruppo di super uomini poi chi dava nell'ordine raga allora Santana Salinas mi sembra Dugo poi no e poi ma no Casa Grande Casa Grande Casa Grande c'era Casa Grande prima e allora andiamo a vedere Casa Grande The Big Loft allora eccolo qua attacco vabbè 5.012 il dribbling attenzione attenzione da notare da notare da notare Brasile provenienza chiaramente sempre montare i giovanili l'incredibile numero di stamina 872 ragazzi un qualcosa che questo questo praticamente è un giocatore che lo puoi usare per 4 partite e non ti stanga mai 872 di stamina bene dribbling 5.012 tiro 3.509 passaggio 4.957 difesa contrasto 6.263 blocco 6.328 intercetto 7.262 aiutatemi questo è un difensore raga eh forza fisica velocità 4.951 potenza 6.146 maestria 6.124 perlomeno cavolo schifo fatelo fatelo almeno forte in una delle tre cose cavolo in una delle tre vabbè le tecniche che consumano tra l'altro spostiamo il pallino del Durecorder 3.60 3.50 3.10 e poi muore perché ne ha 8.72 di Stavira però c'è il maestro di Prostri che ha 50 quindi quando azzecchi il a parte gli scherzi quando azzecchi il pronostico può diventare fastidioso sicuramente però ha veramente pochissima stavina ragazzi dai troppo troppo a poco mi sono perso il pulsantino del Durecorder è qui dietro vai allora questo si ah l'ho ritrovato l'ho ritrovato che se non registro e poi voi non mi vedete questo era casa grande adesso andiamo a vedere Dugo si però ho girato il coso lo metto così ok prima Dugo e poi Marzio ok andiamo a vedere Dugo esordio per entrambi come diciamo giocatori di SSR nativo eccolo qua Dugo allora ragazzi ecco Dugo attacco 5106 il tripling 4690 il tiro passaggio 5209 già qua la stamina a 1016 un po' più alta per fortuna contrasto 7307 blocco 6484 intercetto 6082 velocità 6109 potenza 53010 maestria 5096 nulla da fare questo è un cd ragazzi che ha come legame nazionale del sud america però mi sembra che questo era fissato pure al 10% giusto vediamo un attimo non vorrei ricordarmi male bonus i parametri massimo 10% quindi irrecuperabile anche passiva alla mano è Dulcis invunto Marzio anche lui un giocatore che ha ricevuto così come Dugo la sua prima versione SSR nativa eccolo qua 1015 la stamina poi dribbling 5231 tiro 4614 passaggio 5336 contrasto 7262 blocco 5591 intercetto 6600 e 11 velocità 6268 potenza 5232 maestria 5226 per Marzio centrocamista difensivo vediamo se anche lui ha il più 10 come legame sud america o magari che hanno messo un po' di più a lui tante volte mi sembra che c'era pure il più 10 se non mi ricordo male massimo sta arrivando 10 niente da fare buona però la verità di squadra il più 12% sud americano certo andare appunto a pullare un giocatore solo per la verità di squadra in un banner costernato da giocatori pessimi complimenti galab se volevi denigrare gli estraieri ci sei riuscito con questo banner non farlo più ma quando fai i prossimi farli decenti per carità di dio ti sopplico e niente ragazzi questo era il ban un'agilità straordinaria con questo giocatore si chiude il video sui nuovi giocatori brasiliani punto interrogativo ci vediamo nei prossimi video ciao ragazzi ciao